Radio Radicale, siamo con il Vicepresidente della Camera Luigi Di Maio per parlare di legge elettorale. Allora, volevo sapere come considera questo supplemento di attesa, in attesa delle motivazioni della sentenza della consulta e volevo sapere se lei è perplesso su come si sta andando avanti in questa fase. No, il concetto è semplice. Quando sentirete, ogni qualvolta sentirete parlare nei prossimi mesi, di premio alla coalizione è la formula magica per che i partiti possano tirare a campare fino al 2018. Pensateci un attimo, appena Renzi ha pronunciato premio alla coalizione si sono allineati tutti, da D'Alema a Bersani a Renzi, da Berlusconi a Alfano, addirittura a Vendola. Adesso sono tutti d'accordo, perché? Perché questa è la formula magica per maturare la pensione a settembre e allo stesso tempo arrivare a febbraio 2018 e quindi tenersi la poltrona un altro anno. Il premio alla coalizione significa fare un'altra legge elettorale. La Corte Costituzionale non ci ha detto neanche se sia costituzionale affidare un premio ad una coalizione di liste che magari 10 liste raggiungono il 4% ognuna fanno il 40% si prendono il premio con liste che hanno superato di pochissimo la soglia. Questi sono meccanismi che abbiamo già visto in passato quando Berlusconi faceva Forza Roma e Forza Lazio per drenare voti nelle sue coalizioni e superare il premio di maggioranza del Porcellum. Quindi quello che abbiamo di fronte è l'ennesima scusa per coalizzarsi contro il Movimento 5 Stelle, tirare a campare un altro anno e provare a fermare l'avanzata al governo del nostro Movimento. Quando si tratta di combattere noi si mettono sempre tutti quanti d'accordo. Per un attimo avevamo creduto che Renzi volesse trasferire la legge dalla Camera al Senato e andare a votare. In realtà Renzi non è segretario neanche più di se stesso, il suo partito non lo controlla più ed è un partito, come è sempre stato, di correnti che vogliono restare qui dentro il più possibile. Qual è l'indizio che le fa capire che Renzi ormai non ha più il controllo del partito, dalle frasi sui vitalizi fino all'intervista che è uscita oggi? Mi verrebbe da dire che prima dice una cosa e poi ne fa un'altra, ma questo è sempre stato così. Però vale anche in questo caso, cioè sembrava il condottiero che voleva andare al voto, poi si è reso conto che il suo partito non gli andava più dietro e quindi ha deciso di cambiare idea. Questa non è una novità, Matteo Renzi non fa mai quello che dice, ma in questo caso l'abbiamo visto ancora una volta all'opera, cioè fingere di voler andare alle elezioni. In realtà lui vuole che il suo partito resti qui dentro perché i suoi parlamentari, invece di dare la parola agli italiani, preferiscono farsi un altro anno di gentiloni. Io vi dico soltanto questo, questa settimana la Camera ha votato in tutto per otto ore. Paghiamo 80 milioni di euro, gli stipendi dei parlamentari qui alla Camera, per tenerli a fare le comparse nel più costoso palcoscenico del mondo, che costa 100 mila euro all'ora. Allora, per me si deve andare a votare, è inutile il Parlamento finga di lavorare quando non ha nulla da fare, perché ogni provvedimento che si analizza spacca la maggioranza che non esiste più, che è divisa in mille correnti. L'ultima domanda, che ruolo ha avuto Napolitano in questa fase secondo lei? Beh, secondo me Napolitano è sempre quello che con i suoi moniti non richiesti da ex Presidente della Repubblica continua a dettare la linea politica. Qui per anni ci hanno detto che il Movimento 5 Stelle fosse etero diretto, però in realtà in questo caso ancora una volta si conferma l'eterodirezione di Giorgio Napolitano nei confronti del partito di maggioranza, ma anche di qualche partito di opposizione a quello che vedo. Scusate per salutare Massimo. La ringrazio, grazie a Luigi Di Maio.